Ciao, mi chiamo Matteo Pissedi, ho 23 anni, faccio il portiere, vengo dalla Ternà e prometto tanto impegno per quest'anno. Siamo una squadra molto affettata, giovane, ha voglia di far bene, c'è grande entusiasmo tra i tifosi, come ho visto già nella presentazione, e proveremo a fare un grande campionato.